ciao amici di youtube bentornati in questo nuovo video dopo le pull del video scorso sull'account di tutti i vari sabini del canale adesso stamme prendere saino in questo momento il garantito quindi almeno la prima costellazione la c0 me la porto a casa tranquilla il punto sarà trovare l'arma perché io una grandissima sfiga negli ultimi mesi sul banner delle armi spero oggi rivincermi trovando l'arma al primo piti al massimo al secondo e dopo di che proveremo a costellare saino magari una c1 proviamo a prenderla perché ho visto che tutti perdono il 50 e 50 con jean e io voglio jean c2 quindi staremo a vedere comunque vi aspetto e ci vediamo comunque in questo video e anche ai prossimi ciao ok vediamo intanto se sentite casino donne in poi e perché sono arrivati miei parenti perché ce l'ho accenato quindi a far casino giù adesso vabbè vabbè ok 38 faccio 39 40 e poi tiro molti ragazzi è solo per arrivare al numero tondo che ci fanno meglio ok 39 ok e adesso tiro la quarantesima allora 40 bene 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 adesso andiamo di multi siamo a 40 tondo quindi tiriamo la prima multi arriviamo a 50 sono abbastanza tranquilla per ora perché c'ho il garantito la c0 mi arriva garantita ok la c0 è arrivata prima del dovuto garantita fantastico buono buonissimo va bene allora la c0 ce l'abbiamo vediamo 41 42 43 vediamo dove sta 44 45 46 47 48 49 era l'ultima proprio tonda spaccata 50 50 dopo cc a pt 42 saino a pt 50 ciao morino e vabbè è stato breve e intenso devo dire ma adesso andiamo sull'arma non vi preoccupate non vi preoccupate non vi preoccupate che si piange si piange no si piange si piange no ragazzi no no ragazzi dai ma non è non è la palla della pizza ragazzi state tranquilli non è la palla della pizza ma figuriamoci vabbè meglio un piti me lo sono già giocata così va bene va bene qualsiasi cosa esca vabbè due tre quattro cinque si già contenta va bene così sei è un elegi sette otto sono veramente incazzato era un elegi lo sentivo me ne faccio altri due elegi sono incazzato con atti c'è niente da fare io sono abbonata agli elegi elegi 87.000 lo sentivo proprio arrivare non vi preoccupate vabbè mi sono fatto un piti siamo a posto per favore non un altro elegi tanto me lo dai di sicuro me lo dai di sicuro io lo so che tu mi dai un altro elegi la prossima è la 65 no si 60 va 65 ci siamo la prossima è la soft porca miseria mi stavo emozionando è una lance si oh 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 si sta cazzo di palla nella pizza porca da vedere tutte saio allora pt0 andiamo a pt10 4 stelle almeno una per dire kennis c0 ce l'abbiamo ok 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 kennis c0 ce l'abbiamo prima kennis che troviamo oggi nonché ultimo personaggio che mi mancava a genshin dex completo di nuovo li abbiamo di nuovo tutti in attesa che a scanilu è arrivata a casa anche lei ma vidamus l'ha chiamata bellissima a posto io sono a posto possiamo procedere ma cos'è questa la sorellina sfighi perché è arrivata subito dopo tutte e due con la lancia tutte e due con i capelli blu sono tipo le sorelline non sei jmx forever chiche diable va bene chiche male diable va benissimo almeno non è garantiso no solo con l'arma o no vabbè vabbè sta coppia che scompa non è barbara le gemelle di shining esatto le gemelle di shining creepy creepy as fuck sta cosa di loro due in fila tutte e due con i capelli blu con il caschettino mamma mia da sognarsene stanotte quanti 4 stelle in questa multis salio battene però quanti 4 stelle in questa multi ma che cos'è ma che multi è questa poi vabbè due cosi da 5 stelle glitter che sono due pull in più cioè ma ma perché vabbè vabbè bella multi bella multi questa multi 75 75 76 77 77 78 79 80 80 80 sì 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 abbiamo preso la C1 abbiamo preso la C1 abbiamo preso la C1 non so a cosa c'entrasse Shin Yan ma se ne può andare dove le pare abbiamo preso la C1 abbiamo preso la C1 abbiamo preso la C1 aiuto e qui la cosa è seria adesso adesso vi spiego qui abbiamo una cosa molto seria da fare ok sino c1 a casa andiamo a pt14 si riparte spam di sino in chat 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 però conta Alex che io gioco dal day one quindi è un po' diverso il concetto cioè ci ho giocato tanto bene vedo i sino posso andare pt14 così vediamo se troviamo una cookie cioè in un pt non me ne è uscita va bene non dico più niente io non dico più niente non dico più niente ragazzi che vi dico a fare le cose non vi dico più niente va bene dammi anche una kendis visto che ci sei insieme operatore della oioverse a fine della multi mi merito anche una kendis almeno la multi che tutti vorrebbero dai dai dammi anche sta kendis va bene grazie ora nella prossima multi sino ok almeno almeno siamo a posto grazie grazie mille davvero ragazzi se non esce in questa nella prossima abbiamo il trick preghiamo che non esca qui il 5 stelle così abbiamo il trick niente è uscito niente va bene va bene allora abbiamo il 5 stelle early pity adesso c'è da capire se è il nostro la nostra c2 e ci fermiamo nel caso se non è la c2 continuiamo perché arci ha fatto il matto però io vorrei fosse la c2 vorrei una cookie se non è la c2 se non è la c2 chiamiamo tutti jean jean o anche fighi però jean c2 broken quindi allora 65 66 67 va bene va bene ci si ferma qua sino c2 pity 67 sino c2 ragazzi stop ci siamo potrebbe essere già il primo della multi no ok io l'ho detto l'ho detto vediamo però se c'è un altro 5 stelle in questa multi dai facci volare come i gufi nel cielo guarda ancora ma che è una persecuzione ho un abbonamento guarda vediamo guarda che questo era l'ultimo della multi mannaggia possiamo andare possiamo procedere ok ho scommesso tutto su no vediamo eccolo eccolo fermo fermo non andare avanti ragazzi il predict di pyrox a metà è già inizia a rendere i punti davide o betta chi vuole rendete i punti esce il 5 stelle sì sì è già uscito è già uscito prima multi al repiti che al massimo si è uscita all'ultima e la diciottesima abbiamo di nuovo il 5 stelle e la speranza che possa essere jean lo skyward art o tignari ritorna 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 ragazzi ragazzi quando si senti arce possiamo procedere loro stanno già rendendo la scommessa vediamo questa era 9 questa è pt10 11 libretto inutile 12 13 13 14 la miseria il demone sono veramente questo l'hai chiamato tu sono incazzato con la tv andiamo sì quando vuoi oh 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 Irly fermi 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 allora 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 fermi fermi immobili immobili 48 voi spammate i sani no no questa arma no 49 50 la pullata la devo trovare oh oh è lei oh c'è è lei la devo trovare ok 5 stelle andiamo piano perché almeno capiamo se è un early pity o meno 70 tanto è saino siamo sicuri che è saino 71 72 72 73 74 75 ok Davide tu puoi rendere già i punti perché almeno è la 76 quindi non è uscito prima del soft noi Arce possiamo procedere 76 grazie per i punti ecco sapevo che ti avessi votato di no io te conosco come le mie tasche eccolo 76 proprio la presa per il culo lo posso dire quando esce la 76 e voi scommettete che esca prima della 76 è una presa per il culo tutte le volte allucinante ha o o o o as